Ciao, se hai aperto questo video vuol dire che stai soffrendo, hai sofferto la perdita di una persona a te molto cara. Anch'io come te ho vissuto questa triste esperienza e sono riuscita a superarla fissando nella mia mente due semplici pensieri in modo costante che sono il fatto che devi ritenerti fortunato ad aver avuto nella tua vita quella persona, del cammino che hai fatto con quella persona perché in fondo la vita che cos'è? La vita è un viaggio, è quello che ognuno di noi dovrebbe sempre tenere presente è il fatto che tutti siamo solo di passaggio su questa terra e come loro se ne sono andati anche noi un giorno ce ne andremo. Il secondo pensiero che mi ha aiutato a superare questo lutto è stato il fatto di pensare che quella persona ci ha amato come hai amato anche te e quando una persona ti ama non vuole vederti triste, vuole saperti felice lo so che adesso non ti va ma prova a fare una sorta di lista di cose da fare, di cose che ti fanno stare bene e per ogni cosa che decidi di scrivere sulla tua lista poni una data di scadenza lo so che adesso ti sembra difficile, che ti manca la voglia di fare questo tipo di cose però vedrai che piano piano il dolore che ora hai dentro si trasformerà in un ricordo dolcissimo di quella persona e questo ti aiuterà a distaccarti pian piano dalla tristezza spero di averti dato un pizzico di conforto e ti mando un abbraccio forte forte un bacio